entrate nelle belle arti mago sciogliendo il ghiaccio davanti alla porta questa zona è ottima per eseguire le scansioni sui diversi macchinari e telecamere che troverete comunque seguiteci per trovare il diario e il tonico un nuovo volto ho un cazzo di volto nuovo chi l'avrebbe mai detto raptor il paradiso dei truffatori devo studiarmi